All'interno delle scuderie del Savio di Ceseno ovviamente i personaggi che si incontrano sono di tanti tipi, ci sono i guidatori, gli allenatori, ci sono gli start, gli ai commissari e poi c'è anche Andrea Breccia che è un personaggio a sé stante e quindi Andrea Breccia io lo faccio autodefinire. Autodefinire, sono un appassionato ipico che adesso spegne il telefono, passione ipica che mi è entrata fino a quando ero bambino e non è più uscita, vengo all'ipodromo da quando credo avere 5 anni, da quando avevo 9 anni segnavo già i programmi a tutti gli ospiti che aveva la Cesenate e adesso ancora la passione non è andata via, nonostante l'ipica poverina non versi in situazioni bellissime però la passione rimane sempre. Diciamo anche che è il fratello di Sabina Breccia, allenatrice, driver. Driver, secondo me è molto brava però anche lei ormai è avanti con gli anni perché purtroppo gli anni passano per tutti. E questo lo dice solo perché è ricca di esperienza, solo in quel senso lì lo dice no? È molto ricca di esperienza però i risultati li ha ancora. Assolutamente tra l'altro proprio stasera, adesso non so quando ci sarà la corsa di Tommy, uno dei cavalli quasi storici. Uno dei cavalli storici, 12 anni, praticamente mai sfruttato perché l'ha sempre gestito come se fosse secondo me un animale di casa, domestico, per cui non ha mai chiesto più di tanto e lui ha sempre fatto quello che voleva. Infatti a 12 anni è ancora qui, visper dillo che tira dei calci e corre. Infatti è il mio punto di riferimento, c'è il suo poster in camera esattamente, anche io voglio vivere come Tommy. Allora Andrea adesso ti chiedo di pescare una delle domande a cui tu ti assoggetterai per il quiz del rompiscato di questa sera, attenzione. Adesso non so che tipo di domande siano. E signori e signori è pescato il jolly. Che fortuna, chissà cosa comporterà il jolly. Ha pescato il jolly nel senso che lei ha già vinto, ha già vinto, ha già vinto, non deve rispondere più a domande. Quindi noi abbiamo conosciuto Andrea Breccia, quindi le lascio solo un saluto per Luciano Poggi, cavalli in pista e Teleromagna. A lei il microfono. Luciano sei un grande, non molli da non so quanti anni, ormai saranno 30 anni, anche tu. E mi raccomando continua a chiamare il sulchi, orche miseria, non mi sono dimenticato come lo chiamava. Una definizione bellissima che ha avuto una volta del sulchi, o credo carrozzina o una cosa di questo genere, fu una delle cose più divertenti. Però Luciano è sempre presente e non mollerà mai. e trasmette comunque l'Ippica in giro in tutte le televisioni, in tutti gli appassionati della Romagna. Luciano Poggi, Ippip, ora! Alla grande, ciao a tutti!